L'indipendenza del Texas, nota anche come rivoluzione texana o guerra d'indipendenza del Texas, fu il processo di affrancamento di un'area settentrionale dello stato messicano di Coahuila Ypsilon, Texas. Questo avvenne principalmente tra il 2 ottobre 1835 e il 21 aprile 1836 inizialmente, i coloni statunitensi nell'area, ancora cittadini del Messico, vinsero nella battaglia di Goliad e nella battaglia di San Antonio. Tuttavia, poco dopo furono pesantemente battuti nella celebre battaglia di Alamo, in cui tutti i difensori del forte texano furono travolti e massacrati dalle forze messicane alla prima al quadrato. La battaglia di Alamo si combatte dal 23 febbraio al 6 marzo 1836 e vide i messicani invadere Alamo dopo un breve assedio. Nella difesa di Alamo perì anche il famoso avventuriero Asterisco de Vicrocchetta. La battaglia di San Jacinto fu una vittoria decisiva per i texani durante la rivoluzione texana. Ecco alcuni fattori chiave che hanno contribuito alla loro vittoria. Sorpresa e velocità il comandante texano Sam Houston ha pianificato un attacco a sorpresa contro l'esercito messicano del generale Sant'Anna. I texani hanno colto di sorpresa le truppe nemiche, che non erano pronte per la battaglia. Posizione geografica, la battaglia si è svolta vicino al fiume San Jacinto, dove i texani avevano una posizione favorevole. Questo ha permesso loro di sfruttare il terreno e impedire alle forze messicane di ritirarsi o ricevere rinforzi. Motivazione e determinazione i texani erano altamente motivati e determinati a ottenere l'indipendenza. La loro causa era sostenuta da un forte spirito patriottico e dalla memoria della caduta di Alamo. Carica degli urlatori durante la battaglia, i texani hanno lanciato una carica feroce nota come il Carica degli Urlatori. Questo attacco improvviso ha colto di sorpresa i messicani e ha portato alla loro disfatta. Cattura di Sant'Anna alla fine della battaglia, i texani hanno catturato il presidente messicano Antonio Lopez de Sant'Anna. Questo ha indebolito notevolmente le forze messicane e ha portato alla resa. In sintesi, la combinazione di strategia, determinazione e circostanze favorevoli ha portato alla vittoria texana a San Jacinto, aprendo la strada all'indipendenza del Texas.